Foschi, Industria Nazionale Caffè L'azienda è una delle più antiche torrefazioni italiane. Di stampo moderno e a carattere familiare, impiega le più sofisticate tecnologie di produzione, alle quali associa una sensibilità derivante dall'esperienza e dalla tradizione. È una consuetudine Foschi far sì che i prodotti soddisfino la clientela. Per questo, da sempre, l'azienda ha creduto nel contatto diretto con il cliente. Per farciò, oltre al bar, si presta attenzione anche alla famiglia, con le 20 botteghe del caffè, situate nel centro Italia.